Grazie a tutti. Un'altra bella notizia dal comune di Bacoli. Lo scorso 27 gennaio l'auto blu del primo cittadino Giosi Gerardo della Ragione è stata per la prima volta utilizzata in favore della collettività. I genitori di Christian, un ragazzo disabile bacolese dei 16 anni, hanno espresso al comune la loro difficoltà nei confronti di una situazione venutasi a creare con lo scuolabus che dovrebbe accompagnare il ragazzo alla scuola media Plino il Vecchio. L'autobus infatti, abilitato a trasportare ragazzi solo fino ai 14 anni d'età, lascerebbe in difficoltà i genitori di Christian impossibilitati ad accompagnarlo a scuola. Il sindaco, che sin dall'inizio della sua carica preferisce viaggiare a proprie spese ed evitare di utilizzare per i propri spostamenti l'auto blu, ha deciso dunque di renderla al servizio della cittadinanza rappresentata in questo caso dal 16enne Christian. Noi appena ci siamo insediati abbiamo mantenuto questo impegno con i cittadini di non utilizzare l'auto blu, non ci sono mai entrato, non era consigliere tantomeno da sindaco di Bacoli. Nel corso di questo tempo, abbiamo cercato in ogni modo di riportare l'auto al mittente perché è il leasing, ma il contratto che abbiamo come comune stipulato anni fa prevede la presenza di questo auto blu nel parco del comune fino al 2017. Per questo motivo, poiché alla scuola prima del vecchio, una scuola media prima del vecchio, abbiamo un bambino, Cristia, i cui genitori chiedevano di essere aiutati, quindi con la presenza del pulmino comunale, lui ha 16 anni, il pulmino può ospitare bambini fino a 14 anni e ci siamo attivati fin da subito per cercare di risolvere questo problema regolamentare e burocratico. Il gesto di solidarietà da parte del primo cittadino, compiuto in attesa di una regolamentazione ad hoc, è stato reso pubblico sul social network Facebook dallo stesso sindaco, con un video che mostra Cristian felice a bordo dell'auto. La scuola, con il consenso del papà del ragazzo, mi ha chiesto di pubblicare il filmato per dare un segnale agli altri, chiarisce subito il sindaco, che si mette così al riparo dell'accusa di strumentalizzazioni. Una storia a letto fine, quella di Cristian, il ragazzo che va a scuola con tanto di autista e auto blu, proprio come un vero politico, ma in questo caso c'è da scommetterci, nessuno avrà nulla da ridire. Noi cercheremo di, sin da subito, risolvere il problema burocratico e quindi la questione regolamentare degli anni, però quando la burocrazia non riesce a seguire i passi della tutela dei diritti, è bene che le istituzioni si inventino, soprattutto in periodi di crisi economica, di tutto, per cercare di essere vicino ai cittadini. A noi fa piacere che con questi piccoli segnali riusciamo a dimostrare la nostra vicinanza, e quindi in un contatto diretto tra scuola e istituzioni, perché il contatto con la pubblica istituzione deve essere costante e anche con questi piccoli segnali dimostriamo la nostra vicinanza.